Vi aspetto al primo corso certificazione ufficiale sulla Palo Diet, 8 ore di lezione al giorno, per 3 giorni, per un totale di 24 ore per cambiare la tua alimentazione, la tua versione, la tua vita. Ti aspetto a Roma. Grazie a tutti. Ben trovato Claudio. Ciao Alessandra, salve a tutti. Oggi parliamo della dieta paleometabolica. Sì. Che cosa vuol dire dieta paleometabolica? Allora, è una delle manipolazioni alimentari più antiche e soprattutto cicliche. In che senso cicliche? Dobbiamo distinguere che fra l'alimentazione, chiamiamola standard, statica, come può essere per esempio anche la paleo è statica, oppure la dieta mediterranea è statica. Cioè, cosa vuol dire? Alimentazione che tu mangi ogni giorno quel totto di calorie, ok? Invece la dieta metabolica è un esempio di dieta ciclica. Cosa vuol dire ciclica? Che in pratica per 5 giorni mangi una certa quantità di macronutrienti, invece nel weekend oppure in un giorno cambi completamente questa ripartizione di macronutrienti. Ricordiamo che cosa sono i macronutrienti per persone che magari non lo sanno. Hai ragione, hai ragione. I macronutrienti sono i carboidrati, i grassi e le proteine e se vogliamo anche aggiungere anche l'acqua, è un macronutriente. Diciamo quindi 3 più 1 e riguarda appunto la quantità giornaliera oppure in un pasto in cui devi mescolare proteine, carboidrati e appunto grassi. Diciamo che la metabolica non è ancora pale, perché partiamo dalla dieta metabolica. La dieta metabolica è nata alla fine degli anni 80 dal nutrizionista campione del mondo di powerlifting canadese Mauro Di Pasquale, di chiara origine italiana. Io ci parlai qualche anno fa e lui è nato a Pescara, in Abruzzo, e però a 5 anni poi si è trasferito a Toronto dove è diventato appunto medico, campione del mondo di powerlifting e anche diciamo docente all'Università di Toronto. E su quale principio è stata costruita questa dieta? Stiamo parlando della fine degli anni 80, inizio degli anni 90, dove iniziò un fervore verso abbracciare i carboidrati che facevano benissimo e i grassi che facevano malissimo. Lui, devo dire in maniera estremamente coraggiosa, scrisse un libro in cui diceva esattamente il contrario. Diceva, ovviamente, dice ancora ovviamente, che l'alimentazione, quella vera, è un'alimentazione in cui ci deve essere grassi, proteine e pochissimi carboidrati. Quindi a quel tempo si chiamava anabolica, poi lui la trasformò in metabolica e addirittura la fece utilizzare in una federazione di bodybuilding che a quel tempo nacque e poi morì dopo qualche anno, ma lui faceva questa dieta quindi anche per aumentare la massa muscolare. Esattamente. E come si applica praticamente? Allora, diciamo che non c'entra niente, come abbiamo detto fino ad adesso, con tutti gli altri tipi di dieta, perché in pratica bisogna mangiare per 5 giorni a settimana o 6, poi dipende da persona a persona, il 40-50% di proteine, il 50, diciamo il 50 restante grassi e soltanto massimo 30 grammi di carboidrati al giorno. Ma non ci sono troppi grassi? Allora, sicuramente ci sono tanti grassi, ma volutamente. Adesso spieghiamo quindi il concetto che è alla base di quello che ha detto Di Pasquale, quello che ha scritto Di Pasquale. Andiamo nel pallo di Dio. Cosa avevamo a disposizione fino a 12 mila anni fa? Avevamo a disposizione animali, in particolare molto grandi, come potevano essere i mammut, come potevano essere i coccodrilli, i dromedari, i rinocenonti, i lippopotamo, quindi animali molto grandi, e per una scala logaritmica, più l'animale è grande, più è grasso. Quindi noi mangiamo soltanto, o quasi, diciamo, durante, diciamo, in un mese tipo, soprattutto grande quantità di proteine e grandi quantità di grassi. Mangiare i carboidrati, secondo Di Pasquale, e anche secondo quello che è stato detto delle antropologi, non era così comune, la frutta d'inverno è abbastanza rara, tra l'altro ancora adesso è così in pratica, e quindi mangiare della frutta, quindi dei carboidrati, che erano gli unici a disposizione in quel periodo, era abbastanza raro. Quindi lui ha teorizzato, allora, io mimo questo meccanismo, questo ritmo, faccio mangiare grassi e proteine durante la settimana, poi faccio finta che ogni settimana, ogni 12 giorni, trovo qualcosa, un albero, insomma, una serie di, anche un tubero, che ne so, delle patate dolci o altre cose, e mangio, quindi, una quantità maggiore di carboidrati. Quindi, in pratica, si fanno 5 giorni di grassi e proteine, massimo 30 giorni di carboidrati, e poi ricarico i carboidrati nel sabato e nella domenica. Qual è il principio base su cui si basa questa, la dieta metabolica, che io ho poi trasformato in paleometabolica, vedremo poi perché. Si basa sul fatto che, in pratica, il corpo, paradossalmente, più mangia grassi, più si abitua all'ossidazione dei grassi. Quindi, il paradosso è, più mangio grassi e più dimagrisco. Perché il corpo aumenta gli enzimi, aumenta la capacità di assorbire, di trattare grassi, quindi, praticamente, il corpo dimagrisce, proprio perché, avendo più grassi, riesce a aumentare il proprio metabolismo su questo tipo di macronutrienti. Il paradosso che Mauro Di Pasquale, a quel tempo, mi ha insegnato, è che se tu mangi pochi grassi, come iniziò questa fobia di grassi già negli anni Ottanta, e tuttora dura, grazie a questa campagna, diciamo, straordinaria contro i grassi, contro i libidi, il paradosso è che se tu mangi pochi grassi, il corpo riesce a trattarli di meno, li tratta di meno, quindi, avendo la capacità, diciamo, scarsa, di trattare una bassa quantità di grassi, in pratica, le smattisce in maniera meno efficiente. E quindi, praticamente, meno grassi mangi e meno dimagrisci. Invece, lui diceva, se tu, invece, un po', faccio un esempio come paragone, quello dell'acqua, no, Alessandra? Uno dice, allora, io voglio smaltire l'acqua dal corpo e ne bevo poca, ma non è vero perché il corpo, quando beve poca acqua, la trattiene, perché, appunto, serve. Quando, invece, aumento la quantità di apporto di litri d'acqua, il corpo aumenta la capacità di smaltirli, perché sa che deve averne una certa quantità, quindi aumenta la velocità di smaltimento dell'acqua. È la stessa cosa con i grassi. Più ne mangio, più il corpo diventa una macchina bruciagrassi efficiente nel utilizzarli. Ovviamente, esattamente il contrario di quello che ci dicono il 95% dei nutrizionisti, dei medici e della famosa dieta mediterranea, patrimonio dell'umanità UNESCO, che è veramente uno scandalo. Sì, infatti, di conseguenza, è un'alimentazione che prevede pochi carboidrati. Quindi 10%, no, il 30% di carboidrati. No, 30 grammi. Eh, 30 grammi, ecco. 10%, fra il 4 e il 10% delle calorie totale del giorno. 30 grammi di carboidrati e niente. Sono pochi. Quindi non vai insieme a... Ma c'è un motivo, c'è un motivo, non ne parlai proprio direttamente con Di Pasquale qualche anno fa. Il concetto è questo, se tu inserisci tanti grassi nel corpo e pochi carboidrati, il corpo sarà costretto, prima o poi, a utilizzare i grassi. Non hai carboidrati, il glicogeno dopo due giorni si scarica e quindi costringe ancora di più i grassi a essere utilizzati. Io faccio sempre un esempio che è abbastanza idiota, lo faccio, lo ritengo, è un'autocritica la mia. Quando faccio lezione, quando spiego la palometabolica, dico, mettiamo che tu entri in una stanza e c'è un gruppo di ragazze belle, un gruppo di ragazze brutte, no? E le ragazze brutte sono il grasso, le ragazze belle sono i carboidrati. Entri, ovviamente, scegli una ragazza del gruppo delle ragazze belle. Il giorno dopo lo stesso. Il terzo giorno ti fanno trovare soltanto il gruppo delle ragazze brutte, ok? Quindi non scegli nessuno. Il quarto giorno non scegli nessuno. La prima settimana non scegli nessuno. Dopo il quindicesimo giorno, ma quella lì non è proprio me. Hai capito il concetto? Sì, abbiamo capito. Il corpo dice, vabbè, ho capito, io sono abituato ai carboidrati grassi e non li guardo, dopo un po', ebbè, ho l'impressione che per questione di sopravvivenza in guerra tutto è ammesso, ovviamente il corpo è costretto. Prima o poi diventa da persona a persona utilizzare grassi. Bene Claudio, ci fermiamo un attimo, ci vediamo tra un po', grazie. A dopo, a dopo. Geo Paleo Store Il primo negozio in Italia sulla dieta paleolitica dove non c'è alcun bisogno di contare le calorie. Nel nostro paleonegozio potrai trovare più di 300 prodotti senza glutine, cereali, lattosi o legumi. Vi aspetto al primo corso certificazione ufficiale sulla Paleo Diet 8 ore di reazione al giorno, per 3 giorni, per un totale di 24 ore per cambiare la tua alimentazione, la tua avversione, la tua vita. Ti aspetto a Roma. Ben trovati. Salve. Claudio, non è una dieta troppo acida la metabolica? Sì. Sì, guarda, ti dico la verità, io ho una stima immensa per Mauro Di Pasquale, è una delle figure in cui credo, stimo, insieme a Polliken e pochi altri. Però io ho avuto l'occasione di provarla in parecchi atleti, la metabolica così come lui l'ha scritta, secondo me è fortemente acida. Può dare in alcune persone dei grossi problemi di acidità, di attacchi di panico, di altre problematiche. Però il principio è assolutamente giusto. Quindi cosa ho fatto? Ho trasformato la metabolica di Di Pasquale nella paleometabolica, cioè ho eliminato tutte le problematiche che possono essere date dalla troppa città. Io ricordo che Di Pasquale, perché non conoscesse l'alimentazione del canadese, è una dieta, cioè la scelta di cibi non è paleo. Cioè l'idea è paleo, ma la scelta di cibi no. Lui ci ha messo di tutto, le salsicce, i fritti, qualunque cosa. Ovviamente questo non è salutare. Cereali nelle ricariche, immagino. Ci ha messo cereali nelle ricariche. Quindi il principio straordinariamente giusto, scelta di cibi, credo per una questione nazionale popolare di diffusione del suo libro, è prettamente canadese e americana. Quindi francamente con cibi che possono dare dei grossi problemi, specialmente nella ricarica. Allora io cosa ho fatto? Ho trasformato appunto l'alimentazione, ho tolto questi cibi qua e ho messo soltanto quelli permessi dall'alimentazione paleo, con risultati ovviamente molto molto sverori, con nessun effetto collaterale sulle persone. Quindi comunque è una dieta che salutare, oppure va bene soltanto per chi deve fare una prestazione, una performance, vuole dimagrire, quindi può essere fatta solo per un certo periodo. Se la metabolica, quella classica, non è salutare secondo me, tranne quelli che hanno una buona sopportazione, che sono già alcalini di loro e una buona sopportazione all'acido. Io credo che sia salutare quando appunto scegli soltanto carne, pesce, frutta, verdura, frutta secca, che appunto sono alimentazione e sono gli elementi paleo insomma. Fammi un giorno tipo di paleo metabolica, per esempio. Allora, cinque giorni, dall'unerdì a venerdì, bisogna scegliere carne magra, grass fed, se è possibile, cioè allevata d'erba, pesce non di allevamento e preferire per esempio il salmone selvaggio. Perché il salmone rispetto ad altri pesci, che vanno bene comunque? Perché il salmone è grasso, dobbiamo scegliere qualcosa che sia nello stesso tempo proteico e grasso. Poi uova con del rosso, fino a 6-8 a settimana, olio d'oliva extravergine, olio di cocco, frutta secca, acqua alcalina. Perché acqua alcalina? Perché anche se è una paleo metabolica bisogna sempre alcalinizzare, perché comunque le proteine tendono all'acido, i grassi sono neutri, quindi c'è poco di contenuto alcalino comunque in questa alimentazione. Nella prima fase della dieta metabolica le quantità non vanno contate, si va a fame. Poi eventualmente non dovesse funzionare, al limite si può fare un calcolo calorico. Sono concessi massimo 30 grammi giornali di carboidrati che dovranno derivare ovviamente dalla verdura e dalla frutta. Se siete intolleranti alla frutta potete utilizzare per esempio le patate americane. Nel weekend... Ah infatti ti stavo dicendo per il weekend. Sì sì sì, ecco sto arrivando. Nel weekend, per uno o due giorni, si deve ricaricare soprattutto con frutta e verdura per il 35-60% delle calorie totali e utilizzare carne magra biologica, grass fed, pesce, non di allevamento, omega 3, olio extravergine, oliva, frutta secca, per il restante 15-30% di proteine e 20-40% di grassi. Quindi si aumentano tantissimo, nel weekend si aumentano tantissimo i carboidrati, ma si mantiene sempre una certa quota di proteine e grassi. Acqua al calino almeno 1,5 litri al giorno. Nel caso le urine del mattino non arrivino lo stesso a 7-7,5 dvh, assumere 1-2 cucchiene di un prodotto a base di minerali al canalizzanti che può essere per esempio base in pulver o magnesio supremo. Voglio anche un esempio proprio... Per esempio per i 5 giorni, a risveglio, 2 bicchieri grandi di acqua con 5 gocce al canalizzanti per bicchiere, uova più olio, una tazza di tè verde a foglie. Metà mattina 20 grammi di frutta secca. A mezzogiorno carne rossa o bianco, pesce più verdura e olio d'oliva. Primo poveriggio carne rossa o bianco, pesce più frutta secca, olio d'oliva. Sera pesce, olio d'oliva, verdure oppure pollo al kerli, verdure più olio. Un esempio di ricarica per il sabato e domenica, colazione, colazione, uova più patate americane più olio, metà mattina frutta, pranzo da 300 a 500 grammi di patate americane, più carne più moderate quantità di grassi. Spuntino da 300 a 500 grammi di patate americane, cena, pesce a piacere, più patate americane più olio di cocchio o di oliva. Questo può essere un esempio. Una ricarica potrebbe essere anche date dalle castagne? Anche le castagne vanno bene, sì sì, assolutamente sì. Che tipo di risposta bisogna aspettarci? Questa è un'alimentazione che funziona per tutti? Domanda interessante. Allora, calcolate che se tu leggi il libro e senti di Pasquale sembra che funziona subito. In realtà anche parlando con lui è stato molto onesto. È una delle diete che, francamente, è un'alimentazione che abbiamo sperimentato su più soggetti, visto che è la fine degli anni Ottanta, quindi parecchi anni. Devo dire che ci sono dei soggetti in cui funziona subito, in maniera straordinaria. Io vorrei raccontare un episodio. Tanti anni fa lavoravo in una palestra a Roma e venne da me un ragazzo, un bodybuilder, che però era anche un attore. E mi disse, guarda Claudio, ho un problema. Mi ha chiamato Vanzina, devo fare un film fra 15 giorni. Però io sono sovrappeso. Perché devo fare, ma però devo fare una scena in cui faccio l'amante, mi sembra di Victoria Silvestre, quella attrice bionda, e devo stare a torso nudo. Però non c'ho addomini dei fori. In 15 giorni mi dovresti consigliare cosa mangiare per dimagrire velocemente. Ho detto, guarda, 15 giorni mi sembrano un po' pochi. Però facciamo una cosa, se ti funziona, proviamo la metabolica. Calcolate che essendo un bodybuilder, veniva un po' dalla vecchia scuola, i grassi fanno ingrassare, tutto il resto. Lui mi ha detto, guarda, io mi fido di te Claudio, ma stai sicuro? Io mangio una marea di grassi così, non vorrei che ingrassassi ancora di più. Ho detto, guarda, fidati. Dopo circa una settimana me lo vedo rientrare in palestra e mi chiama, Claudio, vieni un attimo, sbrigati, sbrigati. Ho detto, che è successo? Vieni in spogliatoio. Andiamo in spogliatoio, si toglie la maglietta, addominali di fuori. Ha perso tipo 6-7 chili una settimana. Mangiando, ho detto, io mangio le salcicce, bevo l'olio, delle cose incredibili. Perché, devo dire che in quel caso sono stato anche fortunato, perché in quel sistema, nel suo organismo, probabilmente aveva una buona, già di base, ossidazione dei grassi e quindi è funzionato subito. Ma non è sempre così. Mi ricordo che il film era anni 50, quello fatto appunto da Vanzina, che c'era anche il conduttore di Striscia alla Notizia, come si chiama, uno dei, sempre con gli acchetti. Eh sì, adesso non mi... Non ti viene in mente, mi viene in mente. Vabbè, poi ci viene in mente. E praticamente, poi... Ezio Greggio. Ezio Greggio, esatto. Non ci viene in mente. Ce l'abbiamo fatta. E appunto lui faceva la parte di quest'amante trovato, scovato in camera. E funzionò per fortuna. In altri soggetti, invece, la situazione non è così fluida. Cosa vuol dire? È chiaro che uno nasce con un certo, diciamo, configurazione genetica, in cui può essere più o meno capace, di base, a ossidare, quindi a utilizzare grassi. Quindi, se tu sei come l'attore bodybuilder, si è fortunato. Se non lo sei, bisogna aspettare quel tempo tecnico in cui il corpo deve fare l'effetto donna brutta, donna bella. Ok? Quindi, e questo effetto può andare da qualche settimana fino, e questo ne parlai proprio direttamente con Di Pasquale, lui ha fatto degli esperimenti in cui ha trovato un soggetto che ha dovuto aspettare otto mesi, otto mesi, prima che la dieta metabolica riconfigurasse il metabolismo virato verso i grassi. Quindi, molta pazienza. Molta pazienza. Molta pazienza. Con la molta pazienza. Ci interrompiamo un attimo. Ci vediamo tra pochi secondi. Grazie. A doma, a doma. Geo Paleo Store Il primo negozio in Italia sulla dieta paleolitica dove non c'è alcun bisogno di contare le calorie. Nel nostro paleonegozio potrai trovare più di 300 prodotti senza glutine, cereali, lattosi e legumi. Vi aspetto al primo corso certificazione ufficiale sulla Palo Diet. Otto ore di lezione al giorno per tre giorni per un totale di 24 ore per cambiare la tua alimentazione, la tua versione, la tua vita. Ti aspetto a Roma. Ben trovati. Salve. Si deve fare un periodo limitato di questa alimentazione oppure si può scegliere di farla tutto l'anno oppure di sposare questa alimentazione naturalmente per soggetti predisposti a cui funziona e protrastinarla nel tempo. Alessandra, questa è una paleo. La paleo si può fare. Si deve fare tutta la vita. Ok. Se per esempio hai addirittura anche una predisposizione all'ossidazione buona dei grassi certo la devi fare tutta la vita. Io conosco soggetti che la fanno da sempre. Stanno benissimo perché la dieta è la dieta diciamo fatta per loro. C'è solo una cosa che vorrei dire. Nella prima se qualcuno di voi la vuole provare la prima fase della dieta paleometabolica non dovete ricaricare alla prima settimana ma dovete ricaricare alla seconda settimana. Quindi aspettare 14 giorni in pratica perché? Perché devi costringere il corpo a devi dire al corpo ragazzo tu i carboidrati non li vedrai più quindi e devi andare a grassi per convincerlo nella prima fase le prime due settimane non fa la ricarica poi ogni volta ogni settimana farai la ricarica la c'è un'altra differenza Alessandra ci sono delle persone che li abbiamo fatto fare due giorni di ricarica abbiamo visto che fanno facevano due giorni di ricarica e ringrassavano allora in quel caso gli fai fare un giorno solo di ricarica ok? coi carboidrati e dicono che va bene quindi ci sono delle differenze da persona a persona e ci sono dei test particolari che si possono fare per vedere se la paleometabolica può fare il caso o no di una persona? sì io ho cercato di raffinare nel tempo calcolate quando abbiamo iniziato a studiare questa alimentazione ad appicarla erano appunto circa 30 anni fa insomma 20-30 anni fa e non c'era nulla come test alla metà verso la metà degli anni 2000 sono usciti fuori dei test ci sono per fortuna ancora ancora più sofisticati in cui io lo farei proprio di routine cioè di test in cui genetici del DNA in cui puoi individuare se una persona è ha una buona ossidazione grassi una cattiva ossidazione grassi oppure un'ottima ossidazione grassi quindi per esempio viene una persona se ha una mi fai fare il test del DNA oppure si fa il test del DNA vedendo questa trasmissione esce fuori che ha una buona ossidazione grassi beh la sua alimentazione diciamo primaria non può essere altro che la palometabolica non c'è dubbio su questo nell'eventualità in cui fosse invece una bassa ossidazione dei grassi può comunque fare e magari avere risposta non immediata oppure sicuramente per carità ognuno è un caso a sé diciamo che le probabilità di riuscita sono minori ma lì il soggetto si dovrebbe armare di pazienza e aspettare mesi e mesi finché il corpo non si convince a andare a grassi invece che carboidrati io vorrei ricordare che il corpo umano utilizza carboidrati perché ovviamente è una fonte più pronta più energetica diciamo più come posso dire di pronto utilizzo ma in realtà se vogliamo dirla tutta sono i grassi la fonte energetica che invece di dare 4 calorie per grammo ne dà 9 quindi è chiaro che è meglio andare specialmente per esempio per i sport resistenza ecco non abbiamo ancora parlato non abbiamo affrontato l'argomento ma se una persona fa uno sport di resistenza che può essere ciclismo maratona ma anche per esempio sport che durano più di un'ora e mezza due ore se c'è un'alimentazione da scegliere questa è la paloma metabolica esattamente il contrario di quello che fanno tutti i ciclisti o tutti quelli che fanno uno sport di resistenza quelli che fanno uno sport di resistenza fanno i pasta party esatto hanno le frasi tipo i carboidrati sono la benzina dei muscoli bisogna mangiare tanti carboidrati in modo ma da utilizzare da ricaricare il glicogeno non ci dimentichiamo che per esempio nella maratona esiste il cosiddetto muro del 35esimo chilometro che cos'è? calcolate la maratona dura 42 chilometri 195 metri ok? bene molte persone arrivano al 35esimo chilometri e si bloccano si rallentano perché? perché se io mangio solo carboidrati e pochi grassi durante l'anno il mio corpo non è efficiente a utilizzare i grassi quando faccio una maratona dopo un'ora massimo un'ora e dieci io ho finito tutto il glicogeno immagazzinato nel mio nel mio corpo quindi tutti i carboidrati il corpo va comincia a utilizzare una mescela di proteine e grassi ma siccome i grassi io non li so utilizzare perché non li mangio mai perché la nutrizione ufficiale mi dice che blocca le arterie è pericolosissimo quando arrivo al 35esimo chilometri in cui l'ultima stilla di glicogeno di carboidrati è finito praticamente il corpo dovrebbe partire col metabolismo dei grassi ma non parte perché si ingrippa perché non c'è questo metabolismo dei grassi quindi è esatto se tu fai uno sport di stanza l'unica dieta no una delle tante diate l'unica dieta che potresti fare è questa la dieta paleometabolica c'è qualche cosa da approfondire? allora purtroppo non esiste il libro in italiano della della metabolica perché è esistito per tanti anni ma poi l'editore è fallito esiste quindi ancora però ovviamente l'edizione americana canadese e poi per chi legge l'inglese c'è tutto il sito del dottor Mauro G. Di Pasquale che aggiunga sempre degli articoli su questa alimentazione parlerai di questo e di altre cose importanti nel tuo Geo Palo Diet Tour assolutamente sì che farai e stai facendo parlerò proprio del test del DNA esatto e stai facendo in tutta Italia per le persone interessate si può tranquillamente affacciare nel sito www.geopalodiet.com quasi e in più cosa ancora più importante a fine aprile 27 28 e 29 aprile si terrà qui a Roma la prima certificazione Geo Palo Diet in Italia esatto tre giorni intensivi otto ore al giorno per un totale di 24 ore tutto sulla paleometabolica sulla paleo warrior alimentazione per dimagrire alimentazione per aumentare massa muscolare alimentazione per la salute integratori manipolazioni alimentari tutto sul mondo delle diete evoluzionistiche lo stato dell'arte improntato su tre giorni otto ore al giorno otto ore al giorno quindi una scuola è una scuola è la prima volta che si fa una come posso dire una full immersion così sulla dieta evolutiva sulla Geo Palo Diet perfetto vi aspetto non mancate questa puntata finisce qui vi saluto e vi ringrazio alla prossima alla prossima salve grazie ciao 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 vi aspetto al primo corso certificazione ufficiale sulla Palo Diet otto ore di reazione al giorno per tre giorni per un totale di 24 ore per cambiare la tua alimentazione la tua versione la tua vita ti aspetto a Roma Geo Palio Store il primo negozio in Italia sulla dieta paleolitica dove non c'è alcun bisogno di contare le calorie nel nostro paleonegozio potrai trovare più di 300 prodotti senza glutine cereali lattosi o legumi per un totale di